Non tutti i mali vengono per nuocere. Lungo il corso del fiume Yukon, lassù, in Canada, vivevano molti castori, e tra questi anche il giovane Arturo, che era molto contento di stare in un posto così bello e non perdeva mai occasione per ridere e cantare. Perché Arturo aveva un buon carattere ed era gentile con tutti. Aiutava gli uccelli a costruire i nidi, gli orci a pescare, i pesci a risalire la corrente, le talpe a scavare i loro tunnel e le lepri selvatiche a scovare le radici. Una mattina però Arturo si svegliò con un gran mal di denti. Mamma mia, che male, cosa c'era mai? Tentò di rosicchiare un legno per vedere se passava, ma il dolore peggiorò al punto che gli venne da gridare. Esclamò sconsolato. Cosa c'è? Cosa succede? Chiese il corvo Bruno, appoggiato su un ramo lì vicino. Non posso rosicchiare il legno, mi fanno male i denti e tra poco si apre la stagione delle dighe. Il povero Arturo l'ha proprio disperato. Come avrebbe potuto costruire la sua diga in tempo? Chi poteva aiutarlo? Gli altri castori no, erano impegnati ciascuno con la propria. Come avrebbe fatto? Una lepre che passava di lì disse Ho un amico dentista, lui potrebbe aiutarti, ma non tornerà prima di due settimane. Due settimane, povero me! Si lamentò Arturo. Sono proprio nei guai! E si mise a sedere sul bordo del fiume. La lepre e il corvo, vedendolo così triste, bisbigliarono tra loro. Poi uno volò e l'altra corse via. Arturo, sempre fermo lì a fissare l'acqua, era così malinconico e assorto, da non accorgersi che dall'altra parte del fiume, di fronte a lui, presto cominciò a esserci un certo movimento. C'erano lepri, uccelli, talpe, orsi, e tutti si davano da fare, chi a prendere legni, chi a spezzarli, chi a intrecciarli. Insomma, era un allegro pandemonio di peli, piume e versi d'ogni tipo. Persino i pesci guizzavano fuori dall'acqua per acchiappare con la bocca i pezzetti di legno più piccoli e trascinarli in mezzo al fiume. Ognuno, come poteva, dava il suo contributo. E così, piano piano, cominciarono a formare una barriera di legni intrecciati che, guarda un po', somigliava molto ad una diga. Finalmente Arturo si accorse di tutto quel movimento e capì cosa stava succedendo. Stupito e commosso, si buttò in acqua e nuotò fino all'altra riva. Ciao Arturo, come stai? Come vanno i denti? Lo salutò un salmone che incontrò a mezza strada. Mi fanno ancora male, però sono così felice che lo sento molto meno di prima! gridò Arturo di rimando. Arrivato sulla sponda, si scrollò l'acqua di dosso e disse Sono proprio fortunato ad avere degli amici così, grazie di cuore! E li abbrocciò tutti ad uno ad uno. Finì con loro la diga che venne bella e resistente. Quanto ai denti! Continuarono a fargli male finché non ritornò il dentista che glieli sistemò. Ma, considerando quanto aveva scoperto grazie al mal di denti, pensò che ne era valsa la pena. Ti chiamo amico, ti tendo la mano, se stiamo insieme andremo lontano, a tono e cuori ad un ritmo soltanto, ci sei nel viso, ci sono nel pianto. sguardo, si incrocia, esce parola, con la tua voce il mio cuore vola, faccia tra mille speciale e cara, faccia d'amico, fortuna rara. Ti chiamo amico, ti tendo la mano, se stiamo insieme andremo lontan, a tono e cuori ad un ritmo soltanto, ci sei nel riso, ci sono nel pianto.